L'iniziativa di Enel in circolo dà la possibilità a noi come partner, ma soprattutto al cliente, di partecipare a questo progetto di sostenibilità. Statue che nascono dal riutilizzo di oggetti in disuso come piccoli elettrodomestici, giocattoli, batterie, un modo per coniugare arte e sostenibilità con Enel in circolo, il progetto di Enel Energia per sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'economia circolare e che dopo le tappe di Padova e Milano approda a Verona. Ho coinvolto i miei fidi per cominciare questo nuovo percorso con Enel Energia. Da cinque anni collaboriamo con loro, siamo molto soddisfatti di questo nuovo progetto. Fino al 15 dicembre 2021, nello spazio Enel di Corso Milano e in tre spazio Enel Partner, i cittadini potranno lasciare oggetti in disuso e partecipare alla realizzazione di un'opera d'arte con la guida dell'artista Dario Tironi, autore delle statue esposte negli store. Il concetto di utilizzare degli oggetti che non sono più attuali è dargli una seconda vita. In questo caso la seconda vita ha un valore artistico che è una cosa molto bella. Così Enel Energia vuole essere promotrice della filosofia zero rifiuti e testimoniare la sua vicinanza al territorio. Con tutti i nostri negozi noi vogliamo essere vicini ai clienti e quindi dargli la possibilità, con questo movimento di oggetti portandoli nei negozi, anche di avvicinarsi a quello che fa Enel, che non è più solo la commodity ma aggiungiamo anche altri tipi di servizi di efficienza energetica e che può essere anche la fibra e quindi in un certo senso cercando di dare un servizio tutto tondo al nostro cliente.